Partire da una tradizione antichissima come il codice di Pontavellana, che rappresentava proprio quelle regole per poter rispettare il bosco, la natura, le attività di forestazione e rinnovarne il mondo di oggi attraverso soggetti istituzionali, religiosi, scientifici, collaborando fra loro, elaborano strategie, idee, ricerche che possano modificare e cambiare il clima. Un grande obiettivo su un grande problema, qualche anno fa c'era il dubbio se quello del cambiamento climatico fosse un'invenzione in realtà, oggi abbiamo tutti in maniera molto più chiara come lo sfruttamento eccessivo dei idrocarburi fossili, scelte di sviluppo incontrollata, abbiano inciso sul clima del nostro pianeta e sulla necessità di porvi rimedio. Quindi un contributo che con radici antichissime affronta i problemi di oggi.